La nostra collaborazione è nata in Europa molti anni fa. Per quanto riguarda l'Italia abbiamo imparato a conoscerci a ISE del 2018 ad Amsterdam. A giugno 2018 è nata formalmente la nostra collaborazione. La nostra collaborazione nasce durante ISE 2018 quando abbiamo avuto un incontro di presentazione a seguito della collaborazione ormai già storica tra NEC Display Solutions Europe e ETI Europart in Europa. NEC trova in ETI Europarts un distributore a valore aggiunto che può potenzialmente aprire per NEC nuovi canali e nuove opportunità di business e questo è legato alla base clienti di ETI Europarts fatta prevalentemente da system integrator e reseller non completamente focalizzati sul canale ProAV che è già presidiato in maniera molto professionale e attenta da NEC. NEC trova interessante ETI Europart per la tipologia di clienti che approccia che in alcuni casi sono differenti da quelli storici e classici di NEC e il supporto e la diversa tipologia di portfolio che integra le nostre soluzioni. Perché le soluzioni di NEC sono leader di mercato, integrano tecnologia allo stato dell'arte sia per quanto riguarda gli LFD sia per quanto riguarda i proiettori e tutti gli strumenti di collaboration che in questo momento sono estremamente interessanti per il mercato italiano. ETI Europart trova interessante NEC perché è un portofolio talmente ampio che può offrire soluzioni che vanno dalla videoproiezione ai monitor LFD a soluzioni anche software per control room o per la collaboration, le meeting room, a completamento della sua offerta. I prodotti sono LFD, proiettori, strumenti di collaboration che trovano reale applicazione in alcuni settori specifici, in particolare le control room, le meeting room e per alcuni versi il mercato education. Sicuramente i mercati che sono più trainanti in Italia sono quello del meeting e collaboration e quello delle control room che ETI Europart può integrare insieme a quelle che sono le soluzioni NEC. ETI Europart storicamente segue l'intero ciclo di vita dell'offerta commerciale. partendo dalla richiesta del cliente, all'analisi dei requisiti, all'identificazione della soluzione sino alla vendita, alla consegna e al supporto post vendita. Cerchiamo di offrire ad ETI tutta la conoscenza che NEC Display ormai ha da anni essendo leader di mercato negli svariati settori, come quelli della videoproiezione a completamento delle soluzioni che possono offrire in modo da dare al cliente finale l'adeguato supporto. Un progetto è stato particolarmente interessante e ha riguardato un ente pubblico locale che ha realizzato una control room dove hanno trovato installazione un video wall neck, un sistema di videosorveglianza, strumenti di analisi per quanto riguarda il traffico veicolare e il controllo accessi. Ci sono stati sicuramente tanti progetti durante questi mesi, sicuramente quello per cui siamo più orgogliosi è la realizzazione di una control room presso un comune italiano dove ETI ha offerto un video wall neck integrando la sua soluzione per la videosorveglianza. L'aspetto migliore della nostra collaborazione è il rapporto umano e il livello di interscambio, di condivisione delle informazioni che si è instaurato fin dal primo giorno. Potremmo parlare di progetti fatti insieme, offerte, ma sicuramente la cosa che più ci colpisce è il rapporto umano che si è terriato tra le persone, un rapporto fatto di fiducia, stima e collaborazione reciproca. Grazie a tutti!